Ciao Astronomers! Uno dei grandi avvantaggi dell'Eagle è la sua capacità di essere potente in remoto, eliminando la necessità di prescire fisicamente il pulsante di potenza sul chassi. Oggi vi mostrerò tre metodi diversi per ottenere questo, così che puoi scoprire l'unico che migliormente avviene il tuo set up. Il primo modo per ottenere l'autopower-on è usando la funzione di auto-power-on di BIOS. Aggiungere un monitor di HDMI e un mouse e USB per attivare il BIOS. Qui trovi l'autopower-failure. Questo cambiará basso sull'eagle, quindi ringraziate al manuale di usare per controllare il menu e ottenetelo. Aggiungere l'autopower-on. Ora, quando connessi con l'eagle la sua unità di potenza, la potenza automaticamente avviene Windows. Questo significa anche che puoi aggiungere un plug di smart plug alla unità di potenza, e quando lo attivare, per esempio, con un'app smartphone, l'eagle avviene automaticamente iniziando. Inizialmente con l'eagle 6, hai altre mani di rimotellamente avviene l'autopower-on. Il primo è usando l'utilizzo di lights-out. management. Simple connect your eagle dedicated long port to your network using an internet cable. Then open a web browser and enter the LOM IP address, which you can set in the Eagle Manager X settings. Once inside the lights-out management interface, all you have to do is press the power button and your eagle will boot up instantly. The third way to turn your eagle on remotely is by using the observatory actions, together with the smart relay switch. To set this up, in Eagle Manager X, configure the controlling port to power on mode. Then connect the smart relay switch to the controlling port of your eagle, using a 2.5 mm jack cable, and use the relay cloud control app to remotely toggle the switch. It will send the signal to the Eagle, turning it on instantly. Whether you are operating your telescope from your backyard, a remote observatory, or even across the world, the Eagle gives you three reliable ways to power it on remotely. For more content that we help you to explore the universe like a pro, subscribe to our channel and clear skies!